Roma vanno un po' meglio le sofferenze bancarie. Quei crediti che le banche non riescono a riscuotere rimanendo incagliati nei loro bilanci. Male il debito pubblico. In sintesi quanto ha dichiarato il ministro dell'economia Pier Carlo Padoani intervenendo a un convegno della Cigil sulla buona finanza. Ma in casa del sindacato il ministro del tesoro ha parlato anche di come affrontare i problemi irrisolti del paese, dalla disoccupazione giovanile, agli investimenti con la prossima legge di bilancio. Le risorse sono pochissime dati i vincoli di bilancio ha spiegato il ministro del tesoro il PIL migliorato ma non in modo tale da allentarli in modo significativo. Sicuramente ha aggiunto l'occupazione giovanile una delle pochissime voci che verrà aggredita nell'attuale quadro di risorse pubbliche, come dire che le che verranno messe, come, con un nuovo, piano investimenti e, gli incentivi, per l'occupazione giovanile che, sono le due, gambe di un abbozzo della strategia per l'occupazione. Ma il sentiero stretto costruito da Padoan non piaciuto alla segretaria CGL Susanna Camusso. Il ministro ha concluso il suo intervento con la frase che non doveva dire. Il sentiero stretto ha attaccato la sindacalista ormai uno slogan che usa per tutti i temi. Credo che il paese abbia bisogno di qualche strada larga e non solo di sentieri stretti. Anche se la parola stretto, Padoan la ha usata in reazione alle crisi bancarie. Di banche si parlava in casa CGL e il ministro ha spiegato che gli istituti di credito stanno facendo la loro parte ma, come, in tutte le crisi ci sono tante lezioni da trarre. Sicuramente dalla crisi di alcune banche italiane stiamo imparando molte cose e lo stanno anche imparando fuori dall'Italia, anche se non viene riconosciuto esplicitamente. E il ministro si riferisce ai partner europei. L'unione bancaria lungi dall'essere completata giunge Padoan nel gestire una crisi bancaria bisogna coinvolgere tutte le istituzioni europee e questa è stata la fatica più grande nella gestione della crisi. E poi una punzecchiatina al sistema bancario tedesco, che ha risolto i suoi problemi con le banche immettendo liquidite pubblica prima dell'introduzione del famigerato Beilin, quello che ha lasciato scottati molti risparmiatori italiani. Il sistema tedesco non avanzato. Elefantiaco ha dichiarato Pier Carlo Padoan ricordando che per la tenuta del sistema bancario tedesco sono state impiegate risorse pubbliche ingenti, ma in un contesto in cui le regole lo permettevano, ciò prima dell'introduzione del Beilin, ciò che è emerso durante la gestione delle crisi bancarie, ha dichiarato Padoan, stata la mancanza di uno strumento di liquidite adeguato a livello europeo. Si tratta di strumenti che servono. Ma, l'Europa che deve affrontare la questione con una visione comune. Altro su MSN. Le RIS e P celebri tra i piloti di Formula 1. Blitz, riproduci nuovamente video successivo. Uragano Irma. Il mare si ritira e la gente soccorre un lamantino arenato Blitz TV. Fenomeno incredibile. L&Cancelletto 39. Uragano Irma risucchia L&Cancelletto 39. Oceano Blitz TV. Aggregento. Migranti sbarcano in spiaggia tra i bagnanti Blitz TV. 1. Annulla IMPOSTAZIONE NON attivo. H di HQS di LO.